Musica Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura alla cronaca, tentati furti ma anche atti vandalici in piazza Risorgimento, una commerciante così ha scritto una lettera direttamente ai latri. Vediamo cos'è successo. Ho scritto non desiderate la roba di altri, dice il decimo comandamento. A te che hai tentato di appropriarti dei vasi, la telecamera di videosorveglianza ti ha ripreso, se tenti di nuovo il colpo, consegno il video alla sua risa, sei avvisato. Così recita la lettera fissa da una commerciante sul muro del suo negozio, destinatari della missiva e i vandali che hanno preso di mira la piazza, la centralissima piazza Risorgimento. Abbiamo messo questi vasi, sono di cimento marmorizzato, non lo so, dove la grulla l'ha portata il venerdì sera e il sabato mattina vuote uno di questi vasi, l'abbiamo trovato laggiù al bidone della spazzatura, quindi come volere porto di portarlo via. Tantati furti e dati vandalici ma anche tanta inciviltà. Il venerdì capita spesso di trovare qui delle cose incredibili, non so il che succede, di tutto, ma c'è un'altra cosa, la fontana, quello che si trova la mattina è una cosa indecente. Dai commercianti della piazza anche un altro appello, più iniziative per revitalizzare un luogo così centrale della città. Le seggioline che sono state fatte sotto gli alberi sono state rimontate, ora sono tutte storte, una va a sentire da una parte e si è alzata da quell'altra. Le città sono piene di richiuse, che se dovesse venire una burasca forte, quello che succede non si sa. Io sono qui da, non voglio dire, perché da Sardone sono già 60 anni che sono in questa piazza. Si chiede, ho visto di tutto e mi aspetterai qualcosa di meglio. Arrestato una cittadina albanese di 36 anni, residente ad Arezzo perché trovato in possesso di droga nascosta nella biancheria intima. L'uomo è stato fermato dalla stradale lungo il raccordo Siena-Betolle all'altezza di Castelnuovo-Berardenga. Trovato in possesso di 100 grammi di cocaina è stato arrestato. L'arresto è stato convalidato e il GIP del Tribunale di Siena ha disposto gli arresti domiciliari presso l'abitazione ad Arezzo con l'applicazione del braccialetto elettronico. E ancora cronaca, un uomo di 80 anni che si era gettato nel canale Maestro della Chiana nel corso della fine settimana è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato di Arezzo. I poliziotti sono riusciti a trarlo in salvo anche se l'uomo adesso in ospedale berza in gravi condizioni. È successo lungo la statale 73 all'altezza del ponte sul canale della Chiana tra San Zeno e Pieve al Toppo. Ad allertare le forze dell'ordine era stata la figlia dell'anziano. Questa mattina invece lunghe code disagi per un incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale Sette Ponti nel comune di Arezzo tra Ponte Muriano e Quarata. A seguito dello scontro tra auto il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso alla viabilità per permettere i soccorsi. Adesso torniamo a parlare della crollo nel cantiere Selunga di Firenze. Domani anche CGL e Guilla di Arezzo saranno a Firenze per partecipare al presidio che le due confederazioni nazionali hanno organizzato di fronte al cantiere della strage. Interverranno i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. La giornata di domani vedrà anche due ore di sciopero dei lavoratori edili e metalmeccanici, sciopero indetto anche da alcune RSU e dalla FICTEM regionale. FIOM e Wilma provinciale di Arezzo hanno esteso l'assenzione dal lavoro a quattro ore. Ed è una tragedia quella che si è consumata a Firenze che deve portare inevitabilmente a una riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vediamo i dati dell'attività di vigilanza in provincia di Arezzo. Quei fatti di Firenze ovviamente impongono una riflessione per quello che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lei ha estrapolato dei dati proprio sull'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, in questo caso proprio della provincia di Arezzo. Sì, questi sono dei dati estratti relativamente all'annata del 2023 dalla nostra attività di vigilanza e controllo. Allora a fronte di un numero di nuovi cantieri notificati, quelli notificati alla USA, al Spettorato del Lavoro, che per un numero di 3432, di queste nuove notifiche, noi abbiamo ispezionato 309 di questi cantieri, quindi circa il 10%. Tra questi, quelli risultati non a norma, al primo sopralluogo, sono stati 107, quindi un rapporto di 1 a 3. In generale, nel corso sempre del 2023, i controlli sulle imprese, tutte le imprese, sono stati nella provincia di Arezzo, 423 in edilizia, 226 in agricoltura, 647 in tutti gli altri comparti, quindi industria, servizi, alcuni servizi che non siano in edilizia, eccetera. A livello di comportamento sbagliato, che poi cuba questi 156 verbali, piuttosto che 44 o 91, qual è la casistica, non ovviamente specifica del 2023, ma secondo l'osservatorio del suo ufficio, che più rilevate? Ma in edilizia sono spesso prescrizioni specifiche di mancanza di misure di protezione, di prevenzione e di protezione, quindi anche se negli ultimi anni assistiamo a una diminuzione di questi aspetti, cioè le violazioni si spostano da quelle che erano anni fa, il parapetto per intenderci, eccetera, stanno diminuendo mentre si spostano più, come nelle aziende, sul discorso di valutazione del rischio, quindi omessa magari valutazione del rischio su alcuni aspetti. Per avere un ruolo, immagino, sicuramente non aspirerete ad avere un ruolo veramente sanzionatorio o vestatorio, insomma, nei confronti delle imprese, qual è il consiglio che si sente di dare, magari affidandosi anche ai vostri uffici, ai datori di lavoro di imprese che sono piccole, addirittura piccolissime in provincia di Arezzo? Ma noi, chiaramente, come ho già detto, ci occupiamo soltanto di controllo e vigilanza, ma facciamo anche assistenza, diamo informazione e facciamo anche un po' di formazione. Il consiglio che possiamo dare, che diamo spesso ai datori di lavoro, soprattutto delle piccole e medie imprese, è quella di non pensare di esternalizzare l'obbligo di valutazione del rischio, cioè va bene richiedere la collaborazione esterna di consulenti, eccetera, però il datore di lavoro che conosce il processo, conosce la sua produzione, la sua fabbrica, è bene che lui in prima persona si occupi della valutazione del rischio. Con la consulenza, con la collaborazione di magari tecnici esterni. Una storica azienda a retina è stata rilevata da parte di 3Z Group, con base a San Donato di San Mignato, in provincia di Pisa, un gruppo con alle spalle la società Coinos Capital. 3Z, specializzato nella produzione di suoli di scarpe di lusso, acquisito il 100% del tacchificio PN, con sede a Montevarchi, specializzata nella produzione di tacchi, zeppe, platozo, zoccoli in legno e accessori per calzature formali da donna. E adesso voltiamo pagina, un cambio epocale nelle principali sedi direzionali pubbliche di Arezzo. Da giovedì 22 gennaio inizia infatti il trasferimento degli uffici del centro direzionale dell'Astra Toscana Sudetta dalla storica palazzina di via Curtatone 54 verso la struttura di via Calamandrei 173, palazzo che fu sede dell'azienda di telecomunicazioni Eutelia. I trasferimenti inizieranno per settori e si protarranno fino a lunedì 26 febbraio. Restano nella sede di via Curtatone l'ufficio UR per relazioni con il pubblico, al piano terra l'area prenotazioni e pagamento prestazioni e il dipartimento CTS. E adesso ci spostiamo invece a San Zeno all'impianto di recupero integrale zero spreco dove ha fatto visita l'ambasciatore del Bangladesh. L'ambasciatore del Bangladesh in visita all'impianto recupero integrale zero spreco di Aise Impianti a San Zeno. Dopo la visita delle scorse settimane di una rappresentanza della comunità bengalese e retina adesso è stata infatti la volta del diplomatico per conoscere il funzionamento dell'impianto e rinsaldare i legami tra la numerosa ed integrata comunità bengalese e il territorio aretino. Mese scorso che siamo venuti qua, la comunità bengalese, che è chi viveva adesso, abbiamo visto questo progetto. Poi questo progetto abbiamo parlato con l'ambasciatore, anche lui interessato per il nostro paese, per il Bangladesh, per vedere come sta facendo tutte le cose che non si butta via. Da qui si nasce anche elettricità, nasce gas, nasce acqua calda, che noi vogliamo imparare questa cosa, vogliamo sapere diverse informazioni da qua. E si parla, è venuto lui interessato per parlare, per sapere più. Ricevere la visita di un ambasciatore è molto importante per questa realtà, perché è una realtà a questo punto vista un pochino su scala molto più ampia rispetto a quella che conoscevamo prima. È un momento anche di grande soddisfazione per il lavoro che i miei colleghi hanno saputo fare diligentemente in questa realtà che oggi può vantare più linee di recupero energetico e più linee di produzione. Quindi anche la capacità di differenziarsi come azienda, non vocata al solo smaltimento, ma anche vocata ad aprirsi a un mercato più ampio. Ed oggi è stato invece presentato il progetto civico Aretini Arrampanti, un gruppo civico guidato da Giovanni Grasso. Aretini Arrampanti sono una start-up di giovani da 14 ai 99 anni che vogliono dare dei contributi e delle idee fattive all'amministrazione comunale in modo tale da poter creare una comunità più partecipata e inclusiva. Si chiama Aretini Arrampanti ed è una nuova associazione formata per la maggior parte da giovani che ha deciso di presentarsi alla città nella giornata per la giustizia sociale. Non siamo una lista civica, non siamo un'associazione politica, non siamo un partito. Quindi siamo solamente tanti ragazzi vogliosi di dare dei contributi concreti attraverso degli eventi culturali e non, per riuscire a dare una visione diversa e per aprire e attivare un dibattito concreto sui problemi. Partecipazione, giustizia sociale, sostenibilità ambientale, trasparenza e responsabilità nel dibattito e nelle scelte della città, i principali obiettivi dell'associazione che al momento conta 20 unità, restando aperta a tutti coloro che ne condividono la visione. Vorremmo dare un contributo fattivo ad alimentare quello che è un dibattito, una forma di pensiero diversa rispetto a quelle che possono essere messe in campo da tanti colleghi che chiaramente vogliono contribuire a questa comunità. È chiaro che giovani, tecnici, che sono specifici per ogni settore, quindi ognuno di noi siamo circa 20 iscritti all'associazione, ognuno di noi per la propria specificità potrà dare un contributo tecnico al problema che potrà venire fuori. Suggestioni sintetizzate anche nel logo scelto. Noi vogliamo appunto rappresentare lo skyland della città con i monumenti principali e il loggiato, le loggie vasari che fanno da sfondo a Piazza Grande, volutamente aperti, trasparenti, in modo tale che gli influssi dall'esterno possano entrare all'interno dell'associazione e che ci sia uno scambio proficuo. All'interno c'è il cavallino rampante, simbolo chiaramente di Arezzo, e il marchio di identificazione in primo piano dell'azienda Eorafe con il nostro codice di avviamento postale 50-200. Tutto il logo ha un contorno, è ovviamente quadrato, ed è un contorno che richiama lo spirito dell'Arezzo Calcio, il logo dell'Arezzo Calcio. E quindi proprio perché le nostre iniziative vogliono avere influenze delle sportive, quindi ricreative, sportive, culturali ed economiche della città. Settima tappa della Corecom Tour in visita al Mume, che è alla mostra Il Mondo in Tasca. Sono questi infatti i contenuti della giornata dedicata ad Arezzo per il Comitato Toscano per le Comunicazioni, che sarà in città venerdì 23 febbraio, per proseguire nella campagna di informazione e comunicazione avviata in collaborazione con l'Unione Province Italiane per spiegare diritti e prerogative dei cittadini nel variegato mondo delle telecomunicazioni. Ed è invece in programma per sabato 24 febbraio alle 10 presso il seminario Vescovile in Piaggia del Murello l'incontro insieme per dare una mano, organizzato da Tecla Olluz con il contributo della CEI. E quello di venerdì invece sarà un pomeriggio per approfondire il concetto di occidente tra passato, presente e futuro con la seconda edizione della rassegna Acli Live Festival. L'appuntamento è al Salone del Circo L'Artistico di Arezzo che ospiterà la presentazione del libro La deriva dell'Occidente assieme all'autore Franco Cardi. La Sala Camu del Palazzo di Fraternita invece ospiterà venerdì prossimo un convegno sulla libertà di espressione nelle democrazie di ieri e oggi, un tema dunque di stringente attualità. L'iniziativa è della Facoltà di Giurisprudenza di Siena in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti della Toscana e dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Arezzo. L'evento sarà prieseduto da Giovanni Canzio, presidente emerito della Corte di Cassazione. E sempre la Camu ospiterà anche le stanze dell'Opera, una scuola per aspiranti, cantanti, lirici e musicisti. Katia Ricciarelli, Vessellina Casarova, Giuseppe Gipali e Lucio Gallo, oltre a manager di artisti, lirici e audition planner. Così ad Arezzo nasce la scuola per aspiranti, cantanti, lirici e musicisti, le stanze dell'Opera, guidata dal baritono di fama internazionale Mario Cassi. Il progetto a cui stiamo lavorando da tanto tempo e che però è nella linea di quella che la Fondazione ha perseguito in questi anni, eccellenza e formazione dei più giovani. Le attività partiranno nel mese di marzo alla Casa della Musica di Arezzo, Masterclass pensate per un numero chiuso di partecipanti con l'obiettivo di rendere il mondo dell'Opera accessibile a chiunque lo desideri. Tre anni che ci stiamo lavorando, è una serie di sinergie tra il mondo economico, ovviamente la Fondazione, quindi il Comune di Arezzo, e tutti gli artisti che vengono, insomma che non sono pochi, perché sono otto docenti internazionali e tutti gli ospiti internazionali, quindi un lavoro grosso. A settembre poi un workshop finalizzato a selezionare gli interpreti per la messa in scena dell'Opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Era l'anno pucciniano, poi Gianni Schicchi è un ruolo che adoro, che ho portato in scena, non tante volte, però sempre con grande successo, dovendo io comunque essere dentro, ho detto, beh, meglio di Gianni Schicchi, non ci poteva essere, anche perché poi è un'opera che contiene molti personaggi, quindi possiamo inserire tanti giovani in questo spettacolo. Saranno infine messe a disposizione per gli allievi, borse di studio che partiranno da una base di 500 euro, saranno assegnate secondo criteri di merito, talento e di impegno. Questa attività di tipo artistico viene sostenuta con borse di studio da importanti imprenditori del settore orafo della nostra città, quindi si sta avvicinando un mondo che è quello legato alla cultura a un mondo che è quello legato alla produzione, che nella nostra città sono stati sempre abbastanza separati e distinti. Beh, questo è venuto il momento in cui questa, non dico fusione, ma questo grande avvicinamento è una realtà. Abbiamo imparato che la bellezza, come diceva il sindaco, salverà il mondo e quindi anche noi, aziende orafe, produttrici, che siamo la prima economia per la città, ci siamo avvicinati alla bellezza del canto, alla bellezza della musica lirica. Ognuno di noi ha il dovere di fare quello che gli è concesso, in questo caso noi ci hanno definito donors, lo facciamo con grande passione, con grande piacere, e sarà una grande passione, un grande piacere anche venire a vedere le lezioni che saranno appunto aperte alla città. 18 cantanti, alcuni provenienti anche dal sud Italia, si sfideranno sabato sera alle 20.30 sul palco del Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per conquistare il quinto trofeo del concorso Canoro Fuori la Voce, promosso dalla Proloquo assieme alla Casa Discografica di Reggio Emilia Universi Musicali con il patrocinio del Comune. Ospiti della manifestazione, la cantante Viola Valentino e Massimo Ceccherini. Il vincitore del concorso inciderà un singolo con la Casa Discografica Universi Musicali. Ed è stato ufficialmente presentato nella sala consigliare del municipio il nuovo ente palio che si occuperà a 360 gradi della manifestazione ferragostana assieme all'amministrazione comunale. Abbiamo impostato una squadra su cui noi crediamo molto, una squadra completamente nuova, composta da professionisti e anche da veterani del palio che però sono molto motivati e hanno questa idea comune che accomuna tutti quello di portare le loro professionalità ed energie per poter potenziare il nostro palio marinario, il nostro amato palio marinario qui dell'Argentario. Presentato ufficialmente nella sala consigliare del Comune di Monte Argentario, il nuovo ente palio, la squadra che si occuperà della manifestazione ferragostana assieme all'amministrazione comunale, un gruppo eterogeneo composto da professionisti e veterani che hanno voglia di rilanciare il palio marinario dell'Argentario anche al di fuori dei confini territoriali. In modo che del palio marinario dell'Argentario se ne parli il più a lungo possibile, non soltanto diciamo il mese d'agosto, da metà luglio a metà agosto, ma che se ne parli nell'arco di tutto l'anno, quindi avremo una serie di iniziative che stiamo organizzando, che abbiamo pensato e che organizzeremo col tempo naturalmente, che porterà sicuramente questo discorso del palio a larga scala, allargando proprio il pensiero palio, mantenendo le nostre tradizioni e la nostra cultura. Nuovo capitano Massimo Benedetti. Sì, in effetti è difficile cercare di mantenere il livello, anzi di migliorarlo, perché insomma chi mi ha preceduto ha fatto un ottimo lavoro, il palio è arrivato ad un livello che qualche anno fa assolutamente non aveva mai raggiunto, quindi anche a livello di copertura mediatica dell'evento, eccetera, di attenzione su quello che è il palio è cresciuta sempre di più. Un impegno gravoso, comporta delle responsabilità anche perché il palio marinaro conta tantissimo per i santostefanesi, per quello che rappresenta e che ha sempre rappresentato, quindi cercherò insomma di svolgere al meglio il compito che mi stava affidato, anche se è una grossa responsabilità, devo dirlo, quello sì. Intanto all'Argentario si pensa all'imminente stagione estiva e alla soluzione possibile dell'annoso problema, quello dei parcheggi. Chiaramente i problemi dell'Argentario alla fine poi sono sempre i soliti, prima di tutto il parcheggio, su quello stiamo lavorando sia in termini di immediatezza, abbiamo sistemato un precedente parcheggio che conteneva 40 posti, l'abbiamo portato fino a 100, adesso partiremo con l'Aeronautica e poi abbiamo appunto all'Aeronautica a Santo Stefano, abbiamo un progetto veramente importante per cui lì ci dovrebbe essere una risoluzione definitiva per quanto riguarda Porto Santo Stefano. Per quanto riguarda Porto Ercole il discorso è molto analo, anche se non abbiamo un terreno di proprietà nostro da fare, da renderlo uguale al campone. Però con dei privati l'idea è quella di rendere la loro area disponibile appunto per parcheggiarci e con quella si truono in servizio navette, per cui la gente che arriva a Porto Ercole sa dove lasciare la macchina e sa dove andare. Passiamo adesso alla pagina dello sport, Francesco Calzona, nato a Vibo Valencia ma a retino acquisito, vista la lunga carriera da giocatore, prima da tecnico poi in squadra della provincia, è il nuovo allenatore del Napoli. L'annuncio lo ha dato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis. Attuale Citi della Slovacchia, con un incarico che conserverà, Calzona ha già lavorato a Napoli come secondo di Maurizio Sarri, anche lui particolarmente legato alla provincia di Arezzo e Luciano Spalletti. Nello staff di Calzona poi ci sarà un altro a retino, il preparatore atletico Francesco Sinanti. E adesso passiamo al calcio giocato. L'Arezzo gioca infatti venerdì sera in casa della Spa alle 20.45 ma la vendita dei biglietti per il settore ospiti è bloccata. Lo ha deciso l'Osservatorio Nazionale per le manifestazioni sportive inserendo la partita di Ferrara tra quelle che necessitano di ulteriori approfondimenti riguardo l'analisi dei rischi connessi. La decisione è basata sull'informativa della questura di Arezzo relativa alla gara di andata quando venne segnalato il grave comportamento posto in essere dei tifosi a retino. Una squadra del tennis giotto invece nel campionato italiano di wheelchair tennis. La maggiore novità della nuova stagione del circo da retino è infatti rappresentata dalla costituzione della prima formazione di tennis in carrozzina che nel mese di settembre vedrà tre atleti scendere in campo nella più importante manifestazione nazionale. La squadra sarà capitanata da Roberto Mazzi e farà affidamento su due dei migliori tennisti del panorama italiano. Lorenzo Degli Innocenti e Andrea Morano. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie. Grazie a tutti